Avevano pensato che viaggiare per mare di domenica in pieno giorno sarebbero state le condizioni favorevoli per raggiungere le coste salentine e consegnare a indisturbati il carico di quasi un quintale di droga, magari confondendosi tra i tanti riportisti ed evitando i controlli delle forze dell'ordine. Ma le aspettative dei due scafisti albanesi sono state deluse dal dispositivo aeronavale delle Fiamme Gialle che quotidianamente svolge attività di vigilanza nelle acque del canale d'Otranto per il contrasto ai traffici illeciti di ogni genere. E sono state proprio le unità del reparto operativo aeronavale di Bari e quelle del gruppo aeronavale di Taranto che nella mattinata di ieri hanno intercettato a largo un gommone con due soggetti a bordo che viaggiava a velocità sostenuta verso le coste salentine e sul quale da un controllo più ravvicinato si notavano diversi involucri simili a quelli normalmente utilizzati per confezionare la marijuana. Alla vista delle moto vedette e dei finanzieri gli scafisti hanno cercato di fuggire iniziando subito a manovrare in modo anche pericoloso per sfuggire alla cattura. Ne è nato un inseguimento conclusosi con il fermo del gommone. I militari una volta saliti a bordo hanno avuto così la piena conferma che i pacchi visibili che avevano attirato la loro attenzione effettivamente erano pieni di droga. Il gommone e gli occupanti sono stati condotti presso gli ormai G della sezione operativa a Navalle della Guardia di Finanza di Brindisi. Gli scafisti, un 46enne e un 18enne entrambi albanesi di Durazzo, sono stati arrestati per detenzione e traffico di stupefacenti e posti a disposizione della locale autorità giudiziaria, mentre il gommone di circa 5 metri con due motori, battente e bandiera italiana ma privo di documenti, è stato sottoposto a sequestro. Analoga sorte per lo stupefacente, pari a 80 kg di marijuana confezionati in 11 pacchi che nelle piazze di spaccio avrebbe fruttato almeno 700 mila euro all'organizzazione criminale. Nel corso dell'operazione è stata preziosa la collaborazione con le autorità di polizia albanesi e con il nucleo di frontiera marittima, un reparto delle fiamme gialle operante stabilmente a Durazzo in virtù di accordi internazionali. Sale così a 5 il numero dei grossi sequesti di droga effettuati dai finanzieri nelle acque del basso Adriatico.